Canali Padovani sempre più in secca, la siccità ora minaccia anche la gestione dei rifiuti cittadini. Se la situazione del Piovego e del Bacchiglione infatti non migliorerà nelle prossime settimane, il Comune di Padova dovrà adottare nuove misure per contenere l'impiego dell'acqua e questo potrebbe avere conseguenze proprio sul funzionamento dell'inceneritore di San Lazzaro. Stiamo monitorando il livello dell'acqua anche sul canale San Gregorio Piovego, canali che danno approvvigionamento di acqua all'inceneritore per il raffreddimento del sistema di incenerimento. Ad oggi c'è ancora acqua, se però nei prossimi giorni continuerà a non piovere, bisognerà spegnere l'inceneritore e attuare delle politiche di emergenza per i rifiuti o per riportarli in discarica a Sant'Urbano. I livelli di acqua si sono ulteriormente abbassati come testimoni alla situazione del tronco maestro del Bacchiglione che si è ridotto ulteriormente creando una spiaggetta di fango. Sempre meno fauna è rimasto in questo angolo della città, di solito popolato anche di Anatreoche. Prosegue l'azione del Comune e della Polizia Provinciale che stanno togliendo i pesci dal canale per evitarne la morte per mancanza di ossigeno. Con gli altri enti siamo in costante aggiornamento perché la situazione di secca è così grave che abbiamo capito che anche se nei prossimi giorni pioverà ci sarà un po' di ossigeno ma ci vorrà un lungo periodo per poter uscire effettivamente da questa emergenza. Per cui anche in questi giorni, dopo che le piogge di dieci giorni fa hanno dato un po' di ossigeno abbiamo continuato in questa attività di monitoraggio e spostamento perché sapevamo che prima o poi si sarebbe tornato in una situazione come questa.